Adesso la riacchella facile, però siccome noi abbiamo pensato bene che se la facevamo come la facciamo sul disco, troppo comoda, a quella velocità lì, tec tec tec, invece ho voluto mettere in evidenza le doti tecniche di Bobo A4 e di Daniele, uomo sensato che Stavo pensando, se facevate delle cose più o meno difficili uguali e sì perché lui alla fine fa lo sborone, perché in realtà non ce l'avrebbe quella parte lì, però per farlo vedere che la soffa la fa un white pit, sai che ce l'ho quella parte lì? No, sul disco non ce l'hai, no, ho fatto scritto a me, ma il basso non fa quella scala lì, certo, la fai tu perché si brava, sai perché mi piaci, perché sei in carico. La velocizziamo e la facciamo più impestata, tanto fin a te la sua è la mia. Dai, 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 dai. Giù. Oh, mi chiedi le riate che, che sia di parole, che per me e i che insegnano notte. E mi chiedi quasi a comand, perché vuoi toccare la prestigio che tra l'altro gli regalano a me. Per me ne stai, che ci mo chiede nate, che so pare un l'euro a miglianese. calcate. ma il tus de cinghia che sopare un ai violento e poi c'è tale se vuoi mescriminare per me ne stacch, che è una cala russa, e andà a crappare, andà quasi per aucar Oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi che ho t'arpegge, che ha t'arpegge, oh, me chiedi, oh, me chiedi Che, vole perché ho t'arpegge, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me�ieri, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi, oh, me chiedi fe ole, a crappare, e se propero stacchile per me ne stacch, le an du kr plio, i pra che le anv физio, e al palmento è bravo che il papà è in nervoso. Oh, il Michelin, la maestra, come fa può migliorare, ma per me le problemi che la mia ragazza, e viene che il capo per le mie ragazza, potreste tre schioni male di che la gallina è tutta l'unica, che mi ne faccio per l'arte all'Italia, cosa mi dici che il manda all'università. Oh, il Michelin, Oh, il Michelin, oh, il Michelin, che ho tappato a tutti, oh, il Michelin, il Michelin, oh, il Michelin, che mi ha messo che le prove, scende e scende e due, ragazzi, di chi mi dà la mente che abbiamo, sono ratti che deve dire, a me del corso del piano, a me del bambino, il tipo che le porta, a me del sud e le sera, a me del basa, a me del pubblica. Ce l'ho, 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 ce l'ho. Ho una performance spettacolare. Occhio che il mio Kevin fa una performance spettacolare. Però, però, il mio Kevin si è alzato. Ho bisogno di una cosa. Ho bisogno di voi. in piedi. Il mio Kevin, quando dà un ordine, lo si è. Ma con o senza strumento? Non con quello, no, senza strumento. Dopo, però, lo dobbiamo rimettere. Andatelo qua, va bravo. Qua vuole un pipote. Aspetta che tiro giù il volume. Il mio Kevin deve fare una cosa. Sì. In piedi? In piedi. Qua zinato. Voglio anche voi in piedi. Eh sì, conosciamo. Kevin. No, voi state pure seduti. Kevin due, Kevin due ha detto che non sia. Va bene, allora. Siete in piedi? Siete in piedi? Siete in piedi? Siete in piedi? Allora, voglio fare una cosa, perché tu sei un grande rappresentante del dialetto, del Gamasco. Sì. E io voglio essere al tuo livello. Cioè voglio fare una cosa è Bergamasca. Però ho bisogno di uno. Mi avevo fatto un tonato che io non lo so fare. Su questa nota. Su questa nota. Oh! 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 Brida! Oh! Bele che la力ta? Oh! Yes! Czy possibile! Che abbiamo una storia? Che sta qua look prima more! Oh! No hai mai jukie fra senses Grazie a tutti. Bravo Kevin, bravo International Kevin. Ah, lo so, è una bella. Bravo Kevin, non l'avevo mai sentita, questa l'hai scritta tu. L'ho scritta ieri. Bravo. Vai. One, two, three. No, amico. Oh, c'ho delle istruzioni di barra, io non ho. Perché sei sempre un quarto spostato. Perché adesso? E perché sta dorme il mio e l'orenze. Noi stiamo facendo l'accompagnamento e siamo un quarto indietro. E lui, fanno discorsi alle vegans andrè, non te ne ho. Ma sembrava avanti lui adesso. Sì, avanti, dietro del calello, sempre ho qualche barra però. Avete l'uomo, sei sotto. Bravo. Bravo Kevin. Posso accordarmi che ho il sospetto di essere un po' fuori? Ah, ecco. Grazie. Grazie.